Io ho fatto tre domande e il direttore non ha avuto modo nel tempo di rispondere. Mi ho chiesto come faceva il suo giornalista a sapere che Nilde Jotti era brava a letto, chi gliel'ha detto, quindi forse mi può rispondere, magari si sarà informato. Poi in che relazione essere bravi a letto è con la politica, per uomini e donne, e poi anche se riesce a definire brava a letto. Sarebbe interessante per me cosa significa brava a letto. Caro Pietro, prego a te. Io rispondo a patto di non essere poi processato, io a domanda rispondo. Ci mancherebbe. Rispondo. Io ovviamente non posso sapere se Nilde Jotti era brava a letto. Immagino che però per aver indotto il segretario del Partito Comunista a mollare moglie e figlio autistico che ha mandato a curare in un sanatorio bulgaro per non averlo fra le scatole. Non andare via, no, Gianni. Non andare via, no, Gianni. Non andare via, no, Gianni. No, no, non andare via, no. Immagino. Prego. No, dici un attimo a voi che devi andare via. Non, cioè, no, no, non me lo fare. Sono cose che non si possono sentire, Mirta. Sono cose che non si possono sentire. Io un po' l'ho capito, questo. Eh, ma mi fa... Eh, non si può sentire questa risposta. Però, allora, non fatemi le domande. No, però, scusate, scusate. Ma lascia me la finire. Lo capisci che siamo dentro un luogo comune gigantesco. Prova a controllare le parole. Qual è il luogo comune? Qual è il luogo comune? È il luogo comune, dai, che non è che mica... Cioè, che succede? Che lasci tua moglie perché hai trovato quella brava a letto? Ma ragazzi, ma scherziamo? Andiamo in pubblicità. No, no, no.